Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo fragole banana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 5 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono banana, fragole, panna fresca per dolci messa per 45 minuti in congelatore e latte condensato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere la panna e la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente senza lavare il boccale e senza farfalla mettere la banana, le fragole ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Versare nella ciotola con la panna aggiungere il latte condensato ed amalgamare con la spatola versare in un conteritore e riporre in congelatore per almeno 5 ore trascorso il tempo il semifreddo è pronto a servire semifreddo fragole e banana. Grazie e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta